Un viaggio attraverso il Novecento per approfondire le tappe principali del ruolo assunto dalla Chiesa Cattolica in merito a questioni economico-sociali. Dal prossimo 26 novembre, Famiglia Cristiana e Credere propongono due iniziative editoriali di grande interesse, il film Dossier Come in cielo, così in terra, storia della dottrina sociale della Chiesa e il volume Papa Francesco custodire il creato, proposte per la conversione ecologica. Nel DVD, prodotto dal Centro Televisivo Vaticano, con Officina della Comunicazione, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, si passano in rassegna, con il prezioso contributo di economisti, storici e vaticanisti, le encicliche papali, le riforme dello Stato Vaticano e il tema della tutela ambientale, sullo sfondo di un secolo caratterizzato da tumultuosi scontri ideologici e da una crescita economica inarrestabile. Grazie. Grazie.